Sede libera, nos amalo, amen. Sentate. Quoi che tornerà la guerra? E i casi credi? Mi non mi piace nascondere, 12 e 12. E da disegnare ancora. E poi ne va beh, scrive una dedica. Disegnare un artista romantico. La disegnare perché era analfabeto. Analfabeto. La Lucia si sposa. Sei contenta? Non so. Viva gli sposi! Viva! Doi, tre! La migliore della classe. La scuola è un grande insegnamento, perché ci segna i nostri limiti. Il papà ha detto che deve tornare via adesso. Che la sua mamma non la pensa che sia morta. Ti nasmo paura. Non donare una sposa. Perché grignessi? Perché mi ha preso come mi guarda. Forse io ho capito per conto. Ma, eh. Dimmi le due pericolo. Ucchia. Spendaci. Ma è stata una roba. Lo sai se puoi dirvelo. Si è diventato in quinta città. Perci. Spendaci. Questo è il periodo per la ricetta per essereto. Questa è un periodo percorso. Questa è alberg in quknipление delle cose.